Mancano due giorni a quella che è stata definita l'ultima chance per staccarsi dalla provincia di Caltanissetta. Stiamo parlando del referendum che domenica prossima vedrà i cittadini di Niscemi a recarsi alle urne per dire sì all'adesione del Comune alla Libero Consorzio di Catania così come deliberato dal Consiglio Comunale. Domenica, lo ricordiamo, si voterà dalle 7 alle 20. Effettivamente è l'ultima chance, è l'ultima opportunità che ci viene data a questo territorio. E dobbiamo fare una buona scelta occupata, se vogliamo vivere nel territorio che ci appartiene, dove c'è al Comune, cultura, economia e modo di vivere. Ciò che si teme è l'assenzionismo che nelle ultime elezioni europee è sceso a quota 26%. Il Presidente distante dalla politica purtroppo non riesce a distinguere qual è il risultato di un referendum con un'elezione politica. Vi posso dire invece che la città è aperta, è pronta, però l'assenzionismo sono convinto che ci sarà e sarà tanto, tanto, anche se io sto continuando a conoscere per i quartieri. Trattandosi di un referendum confermativo e non consultivo, la votazione non sarà soggetta al quorum specifico del 50% più 1 dei votanti. Il problema è quello di avere il supporto della città e della nostra comunità, perché anche se c'è la volontà di cambiare c'è sempre quella distanza presa dalla politica. Purtroppo ne pagheremo le conseguenze per i danni che stiamo vivendo nella nostra Sicilia. Sto parlando con la gente, sto facendo volantinaggio, tutta la squadra si è messa in moto, anche se devo dire che non tutti la stanno vivendo come dare un'opportunità alla città, ci sono altri che continuano a remare contro, tanto meglio, tanto meglio per qualcuno.